Ma io sono io, no, lo figlio mio, bello e buono, papà, ho capo vicino al computer, bello e buono in una notte, a rapaporto, bello e buono in tre notte, ho capo che chi lo sta facendo mining, ma grida, stacca un battiscopo, faccio, stacca un battiscopo, faccio un murdo, due battiscopo, faccio così, bà, due battiscopo, uscita la capa, così, bà, chi lo basta, papà, si passa, se lo sto minando, sto stai minando, ma tu tieni 14 anni, 20 anni, posso siedi a fare un grandissimo pesce a mano, con un cocco, zuccholone, ma che ti metta a fare, da metta a minare, io ti spunghi, ti porto la capito frigorifero, e ti giudo frigorifero, ah, così, buh, 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 io ti levo la coppa a faccia della terra, tu devi fare un pesce a mano, che ti metto a fare, o posso siedi a leggere una cosa, diciamo che da fumo all'anima bubocca che va a fatica prima che ha rischato